Storia della razza. Lo Iorcire Terrier è originario dello Iorcire e dell'Ancashire nel nord dell'Inghilterra. Il suo possibile antenato si chiama Vaterside Terrier. Questa razza era popolare nel XVIII e XIX secolo nello Iorcire, ed è stata descritta come un piccolo cane grigio blu con un mantello semilungo. Questi cani erano tenuti dai contadini, poiché era loro proibito avere cani di grossa taglia, in modo che non si cacciassero di frodo su terre appartenenti alla nobiltà. Cani di piccola taglia proteggevano le case dai roditori, e accompagnavano i loro proprietari nei viaggi commerciali lungo fiumi e canali, da cui il nome. Alcuni esperti nominano Iorcire se cagnolini maltesi tra gli antenati, sebbene differiscano in modo significativo da loro. Il maltese ha orecchie pendenti e un colore bianco. Si ritiene che gli Iorcire siano stati incrociati con i cagnolini per migliorare la qualità del mantello, la struttura del pelo e ottenere setosità. Questa teoria è supportata dal fatto che gli Iorci esticolore chiaro hanno spesso un'ottima qualità del mantello. Alla fine del XVIII secolo, con l'inizio dell'industrializzazione, molte persone in cerca di lavoro si trasferirono nelle città dell'Ovest della Contea, e anche i lavoratori arrivarono dalla Scozia. Portarono con sé i loro cani, che a quel tempo erano chiamati Scottish Terrier, in seguito si distinsero razze come Paisley Terrier, Clidesdale Terrier, Cairo Terrier, Schietterrier. Probabilmente, queste razze hanno partecipato all'allevamento dello Iorcire Terrier. I più vicini al moderno Iorci erano i Paisley Terrier, e i Clidesdale Terrier, che non furono mai riconosciuti dal Kennel Club come razze separate e nel tempo il loro allevamento fu interrotto. Anche Manchester aveva il suo tipo di Terrier. Il Manchester Terrier. Gli allevatori sono riusciti ad ottenere una varietà dal pelo morbido, lungo e setoso. Tutte queste razze sono diventate gli antenati dello Iorcire Terrier. I tessitori che hanno lavorato in nuove fabbriche hanno intrapreso lo sviluppo di una nuova razza. Riuscirono ad allevare un cane con un lungo mantello setoso blu acciaio con puri segni marrone dorato. Gli orchiesti quel tempo avevano un corpo più lungo, e dimensioni maggiori rispetto a quelli moderni, il loro peso normale era di 6 luglio chilogrammi. Una nuova razza chiamata Iorcire Blue Antan Silky Terrier ha rapidamente guadagnato popolarità, sostituendo altre piccole varietà di Terrier inglesi. Nel 1886 la razza fu riconosciuta dal Kennel Club e discritta nel libro genealogico. Nel 1898 fu organizzato il primo Iorcire Terrier Club. Uno dei primi famosi rappresentanti della razza fu Ludersfield Ben. Nacque a Hudersfield e a Svod nel 1865, e fu venduto alla signora Foster di Bradford. Ben era il risultato di due generazioni di consanguineità. All'età di sei anni, Ben morì dopo essere stato investito dalla carrozza. Durante la sua breve vita, è riuscito a vincere 74 premi in varie mostre e concorsi. Ben ha lasciato numerosi figli ed è ancora indicato, come il padre della razza. Il primo Iorcire è apparso in Lussia nel 1971. È stato presentato alla ballerina Olga Lepishinskaya. Le singole copie sono apparse anche nelle grandi città. Nel 1991 è stato fondato il primo allevamento in Lussia a Mitischki, dove i cani venivano portati dalla Spagna e dall'Inghilterra, e successivamente dalla Francia. Ora il clan nazionale di razza, ha più di 75 asili nido registrati, più di 60 a Mosca, e nella regione di Mosca. Una razza di cani da caccia usata anche per uccidere i roditori. Al giorno d'oggi hanno guadagnato un'immensa popolarità come compagni, favoriti della famiglia. Guardi e vigili con grande diffidenza verso gli estranei. Bambini affettuosi, intelligenti, giocherelloni, adoranti, i terrier si sentono benissimo anche in piccoli appartamenti. Bullo con altri cani, pericoloso per i piccoli animali. Punti salienti e fatti interessanti. L'Uderfiel Ben era il miglior cane da riproduzione del suo tempo e uno dei migliori cani di tutte le razze e tempi. La maggior parte dei rappresentanti dello spettacolo della razza, sono ora discendenti da uno o più lati. Lo Yorkshire Terrier fu riconosciuto dall'AKC nel 1885 insieme ad altre 14 razze. Gli Yorkie sono diventati animali domestici alla moda nella tarda epoca vittoriana. Gli Yorkie fecero il loro debutto in panchina in Inghilterra nel 1861 come Scott Terrier con il mantello spezzato. All'inizio, gli Yorkies facevano parte della classe operaia, specialmente i tessitori, infatti, è stato spesso scherzosamente commentato che il pelo fine e setoso dei cani fosse il prodotto finale dei telai. Gli Yorkies divennero noti come Yorkshire Terrier nel 1870 dopo che un giornalista dichiarò che non dovrebbero più essere chiamati Scott Terrier, vale a dire Yorkshire Terrier, poiché sono migliorati così tanto qui. Gli spettacoli di Yorkie si tengono in America dal 1878. Lo Yorkshire Terrier è tra le prime dieci razze di cani più popolari almeno dal 2013. Aspetto? Lo Yorkshire Terrier è una delle razze canine più piccole. Secondo gli standard FCI e AKC, il peso di uno Yorkie non deve superare i 3,2 kg, il peso o l'altezza minimi non sono limitati dallo standard. L'aspetto generale è descritto nello standard come segue. Cane a pelo lungo, il pelo cade assolutamente dritto e uniforme sui fianchi, la riga va dal naso alla punta della coda. Molto compatto e aggraziato, il portamento è decisamente fiero, importante. L'impressione generale è di un animale forte e ben proporzionato. Molti Yorkies non hanno il colore del mantello secondo lo standard accettato, il colore giallo-marrone del mantello può variare da molto chiaro a marrone scuro, e il mantello sul corpo principale può essere nero o grigio-argento. Gli esperti notano la relazione tra la struttura del mantello e il colore. I cani troppo scuri raramente hanno il giusto manto setoso, solitamente ondulato, e, come si suol dire, pafuto. I cani di colore chiaro hanno una consistenza più regolare, ma i loro cappotti possono ingiallire nel tempo. Si ritiene che il compito più difficile sia ottenere un ricco colore acciaio scuro, ma è con questo colore che i cani hanno la struttura del mantello che meglio soddisfa lo standard, e fa la migliore impressione. Oggigiorno molti allevatori danno molta più importanza alla qualità del mantello che al colore, così riescono ad allevare cani con un colore uniforme e una struttura del mantello corretta. Esistono anche varietà designer di Yorkshire terrier di colori non standard. Beaver Yorkies. La loro struttura del mantello, è in qualche modo diversa dai tradizionali Yorkies, il sottopelo è più sviluppato, e il colore dominante può essere il bianco, così come il marrone cioccolato con pimentazione marrone su naso, zampe e palpebre. Queste varietà non sono riconosciute da tutte le organizzazioni canine. Tratti distintivi del carattere. Nonostante le loro dimensioni ridotte, gli Yorkshire terrier conservano le qualità inerenti ai grandi terrier. Coraggio, curiosità e instancabilità. È amichevole con le persone, e con gli altri cani e fedele al proprietario. Gli Yorkshire terrier hanno bisogno di attenzioni più di qualsiasi altra razza. Gli Yorkshire terrier sono pronti a trascorrere l'intera giornata accanto al proprietario, tra le braccia o alle calcagna. Sono felici di correre, saltare, giocare a palla, cacciare uccelli, topi o coniglietti del sole, senza dimenticare di monitorare la reazione del proprietario. Gli Yorkshire terrier ottengono costantemente la loro strada, che si tratti della tensione del proprietario, o di una porzione di cibo. Gli York sente bene l'umore del proprietario, e si adatta ad esso. L'eccitazione per la caccia dello Yorkshire terrier a volte, rappresenta un pericolo per lui. Nei villaggi di periferia, gli Yorkie scatturano e mangiano coleotteri, così come topi feriti se un uccello da preda li lascia cadere. Entrambi, ovviamente, non sono mortalmente velenosi, ma possono provocare mal di stomaco. È altamente sconsigliato camminare sotto i nidi di gufi, gheppi e simili, dove uno o due topi stantii sono costantemente in giro. Manutenzione e cura. Grazie alle sue piccole dimensioni, lo Yorkie è facile da tenere in città, anche in un piccolo appartamento. Uno Yorkie può essere abituato a un vassoio gatto o un pannolino speciale come toilette, che rimuove il problema delle passeggiate obbligatorie. Allo stesso tempo, camminare è un grande piacere per lo Yorkie, come qualsiasi attività fisica. In inverno, lo indossano in modo che la neve non venga infilata nella lana, e il cane non si congeli. Lo Yorkie è facile da portare con te in qualsiasi viaggio in una borsa per il trasporto. Ma bisogna tenere presente che un cane di queste dimensioni è piuttosto fragile e può essere ferito, ad esempio, facendo un passo. Devi stare particolarmente attento con i cuccioli. Un cucciolo di Yorkie non è adatto a famiglie con bambini piccoli, poiché il bambino potrebbe farlo cadere o stringere troppo forte. La difficoltà più grande è governare il pelo, se rimane a lungo. Di solito i capelli lunghi crescono nei cani che partecipano alle mostre. Un cane a pelo lungo dovrebbe essere lavato regolarmente con shampoo e balsamo e il pelo dovrebbe essere lubrificato con olio. Per evitare che la lana si aggrovigli, viene avvolta su papillotes. Per evitare che i papilloti si allontanassero, indossavano una tuta sopra di loro. I calzini vengono messi sulle zampe posteriori in modo che il cane non possa pettinare i papilloti. Se il cane non partecipa agli spettacoli, di solito viene tagliato piuttosto corto. Esistono vari modelli di tagli di capelli che si possono fare a casa o consultando uno specialista. Per motivi di igiene, i capelli sono completamente tagliati sulla superficie inferiore della coda, sotto di essa, nell'adome inferiore. Altrove il pelo può essere lasciato più lungo o più corto. Il taglio di capelli, dovrebbe essere ripetuto ogni 2 marzo mesi. Gli occhi di uno Yorkie dovrebbero essere puliti ogni giorno con un batuffolo di cotone inumidito con acqua per rimuovere le secrezioni oculari che, se mescolate alla polvere, possono causare congiuntivite. In questo caso, devi anche pettinare i capelli sul muso in modo che non entri negli occhi. È inoltre necessario pulire le orecchie, i peli all'interno del condotto uditivo vengono spesso rimossi per facilitare la pulizia. I capelli sul terzo superiore dell'orecchio sono tagliati corti con le forbici o un rasoio. I denti devono essere lavati per rimuovere placca e tartaro. Puoi lavarti i denti con uno spazzolino speciale, dare al cane ossa da masticare, in caso di formazione di depositi dentali evidenti, si consiglia di portare il cane dal veterinario. Il tartaro porta alla malattia parodontale, che a sua volta può portare alla perdita precoce dei denti, i denti possono cadere già a due anni. Se le unghie del cane non si frantumano da sole durante le passeggiate, se il cane cammina poco o non cammina affatto, devono essere tagliate. Salute. Gli orchies sono abbastanza sani. La loro vita media è di 12 al 15 anni. Alcuni individui raggiungono l'età di oltre 20 anni. Alcune malattie sono più comuni negli orchies che in altre razze, soprattutto a causa della loro superficialità. Fontanella non in crescita. La fontanella può rimanere aperta per tutta la vita, il che aumenta il rischio di danni al cranio. Critorchidismo, uno o entrambi i testicoli non scendono nello scroto. La lusazione della rotula, stiramento o eversione delle articolazioni, può essere accompagnata dalla rottura dei legamenti. Malattia di pertes, distruzione dell'osso della testa, e del collo del femore senza infiammazione. Si manifesta tra i 3 e i 5 mesi di età e provoca zoppia. Collasso tracheale. I movimenti respiratori acuti, con eccitazione o una forte trazione al guinzaglio, possono portare a un restringimento istantaneo della trachea, poiché i semianelli cartilaginei nelle razze piccole sono poco sviluppati. Disturbo del cambio dei denti. I denti da latte, in particolare i canini, possono rimanere quando si cambiano i denti, mentre quelli permanenti crescono fianco a fianco. L'estrazione dei denti da latte, viene eseguita in anestesia in una clinica veterinaria. La distichiasi è la comparsa di una fila aggiuntiva di ciglia dietro a quelle normalmente in crescita. Prezzo e come acquistare correttamente. Puoi comprare un taglio di capelli non documentato per 200 dollari. Tuttavia, tali individui potrebbero non essere di razza e crescere fino a grandi dimensioni. Puoi comprare un cane dal canile per 400 dollari. I ragazzi avranno tutti i documenti e saranno vaccinati. Gli animali da esposizione, hanno un prezzo fino a 1000 dollari. Linea di fondo. Lo Yorkshire Terrier, spesso abbreviato in Yorkie, è una delle razze canine più piccole di tutte le razze terrier. La razza si è sviluppata nel XIX secolo nello Yorkshire, in Inghilterra. Idealmente, la sua dimensione massima è di 3,2 kg. Lo Yorkshire Terrier, un popolare cane da compagnia, ha anche fatto parte dello sviluppo di altre razze come i Silky Terrier. Ha un mantello grigio, nero marrone. Gli Yorkshire Terrier sono cani molto giocherelloni ed energici. Molte persone che hanno Yorkies come animali domestici ne hanno due perché spesso provano ansia da separazione, quando vengono lasciate sole.